Grazie della presentazione e grazie dell'invito. Dunque io parlerò di arte e di antropologia, come è stato anticipato, e lo farò da antropologo. Che vuol dire che voi avrete uno dei due possibili punti di vista su questa relazione fra arte e antropologia. Per correttezza occorrerebbe anche sentire l'altra campana. Però c'è anche da dire che gli antropologi, se hanno una virtù, che è quella richiesta alla loro professione, è quella di cercare, quantomeno, di sintonizzarsi sul punto di vista dell'altro e di cercare di comprenderlo dall'interno. Cercare, cioè, di dare una rappresentazione come lui si vede. Tradizionalmente l'antropologo non faceva che questo. Andava in terre lontane e cercava di rendere conto di quello che era il cosiddetto punto di vista dell'indigeno. Se volete, in questo caso, l'indigeno è l'artista. Anche se può essere un artista globetrotter e quindi non vincolato ad un luogo, come il termine indigeno lascia presupporre. Però in realtà la cosa è un pochino più complicata. Se parliamo di collaborazioni, non solo di rapporti tra arte e antropologia, ma di collaborazioni tra artisti ed antropologi, queste collaborazioni invitano, hanno anche come condizione la presenza di un terzo, che è quello che appare nel titolo, e cioè una comunità, o quantomeno dei gruppi di persone. Quindi la relazione diventa una relazione molto più complessa, perché non ce la giochiamo in due. Se artisti ed antropologi si trovano e si cercano, è proprio perché vogliono, desiderano, lavorare insieme con un terzo, che è appunto un gruppo o una comunità. Allora, io oggi affronterò questo argomento, che è comunque, come si diceva, strettamente attinente anche al tema della mostra ospitata dalla Strozzina, con un riferimento a quella che è la mia esperienza personale, quindi quelli che sono stati i miei lavori di collaborazione con artisti nell'ultimo decennio. E lo farò selezionando quei lavori che ci portano lontano, sostanzialmente, e che cioè ci portano in Africa ed in particolare in Camerun, dove io svolgo le mie ricerche sulle culture visuali dell'Office del Camerun da circa 12-13 anni. Quindi questo vuol dire che è solo un elemento, tra altri, perché alcune di queste collaborazioni con artisti, di cui non parlerò ma che cito, come Maria Papadimitrio, Adrian Paci, Emilio Fantin, Steve Piccolo e altri, sono avvenuti in realtà in Italia. Questa riflessione che cercherò di proporvi oggi è fatta di un viaggio, sostanzialmente. Questo è un po', come dire, nella tradizione dell'antropologo. L'antropologo si differenzia dal filosofo perché non resta nella biblioteca, anche se fa uso di libri. Si differenzia dal sociologo, prima maniera, perché non resta tra di noi, ma va altrove. La conoscenza di sapere antropologico è un sapere che si costruisce nel viaggio. E il viaggio è fatto di un'andata e di un ritorno. Quindi una partenza che ci conduce in Camerun ed un ritorno che, come vedremo, ci riporterà in Italia e alla mostra di cui si accennava prima, e cioè questa mostra che si è tenuta a Genova nel 2011, a Palazzo Ducale e Castello d'Albertis, che si intitolava L'Africa delle Meraviglie. Ora, dentro questo percorso, io vi proporrò allora tre collaborazioni con tre artisti molto diversi fra di loro, che sono appunto un collettivo di artisti, quello di alterazioni video, un artista che è quella citata prima, Paola, anziché con cui ho realizzato questo video in Camerun nel quadro delle iniziative di Expo, ed infine un terzo artista che è Stefano Arienti, che con me e la collega Giovanna Parodi da Passano ha curato la mostra genovese. Quindi artisti molto diversi che lavorano in contesti altrettanto diversi. Allora, la prima questione che possiamo porci è perché un antropologo ha bisogno di un artista. in realtà io sono non genericamente un antropologo, sono un antropologo che si occupa d'arte, sono un antropologo dell'arte. E però l'antropologia nasce come studio, l'antropologia dell'arte, come studio dell'arte degli altri, cioè quelle forme artistiche che non nascevano e non circolavano e non erano consumate sotto il nome di arte, perché non avevano alle spalle un museo, un'accademia, una galleria, un mercato dell'arte. Quelle che sono state a torto, ovviamente chiamate, fino a qualche decennio fa, arti primitive. Beh, tutto questo sostanzialmente non esiste più, perché abbiamo scoperto che i primitivi non erano così primitivi, ci sono squagliati fra le ditta, e perché poi la realtà del post-colonialismo, quando poi i cosiddetti primitivi hanno preso parola e hanno cercato bene o male di imporsi sulla scena internazionale, anche se poi è arrivato il neocolonialismo, il termine primitivo ovviamente non funzionava più, perché è un termine che dall'esterno si applica a qualcun altro che non si designa come tale. L'antropologia è diventata, sotto la spinta di questi grandi eventi storici, non più studio dei primitivi, ma antropologia del contemporaneo. E questo vuol dire che di fatto non esiste neanche più quella distinzione tra il qui e l'altrove. Gli antropologi, e in particolare gli antropologi che si occupano arte, si occupano sostanzialmente di tutto ciò che accade sotto questo cielo, che può essere quelle che sono le arti tradizionali o le arti che stanno fuori dal mondo dell'arte, ma anche l'arte in senso stretto, cioè quella che sta dentro il mondo e il sistema dell'arte. E quindi, se l'antropologia si occupa della contemporaneità, inevitabilmente si occupa anche di arte contemporanea. Allora, del Camerun ovviamente non potrò parlare, richiederebbe troppo tempo. Me la cavo con un paio di immagini che vi danno almeno un po' il sentore, quindi, che consentono di creare uno sfondo e un minimo di atmosfera. Questo è stato l'oggetto principale della mia ricerca, questo grande palazzo, una sorta di santuario che ha avuto delle vicende molto complicate e che, come vedete, è punto di ritrovo della comunità. Di questo villaggio, 30.000 abitanti, un piccolo regno che si trova sugli altopiani del Camerun e che ha circa 30.000 abitanti. Ora, basta vedere un po' l'abbigliamento e vedete quanto si è diversificato. Quindi c'è un abbigliamento che dall'esterno riconosciamo come tradizionale e un altro giacca e cravatta che appartiene alla modernità. E quindi questo mondo, per quanto lontano, non è così diverso. Lo è in parte, ma non fino in fondo, così come poi potremmo immaginare o anche desiderare. Quando noi, cioè, caliamo sull'Africa i nostri stereotipi esotizzanti. È un mondo complesso, è un mondo variegato, è un mondo misto, dove la modernità vuol dire innanzitutto decenni e decenni di colonialismo, dove, cioè, la modernità è arrivata con la violenza della dominazione. Allora, due diapositive che mostrano proprio in maniera, credo, molto eloquente questa complessità e contraddittorietà. Questi mondi che non sono paralleli, ma che si intrecciano. Questa è la figura del re di Banjum, lo vedete davanti a questo grande santuario, questa grande capanna, con gli abiti tradizionali, gli attendenti, gli oggetti sacri, fa molto Africa. Allora, questo è sempre il re di Banjum in un'altra parte della sua giornata. Allora, non è che soffra di schizofrenia. Anche lui, come tutti noi, del resto, si muove fra più mondi. Non abbiamo più un unico mondo. A vicende recenti anche del terrorismo internazionale ci obbligano a renderci conto che i mondi sono sempre più confluenti e queste confuenze fra mondi generano conflitti, scontri, oltre che possibili intese, oltre che possibili rapporti fecondi. E lo stesso vale qui. Lui si muove tra diversi mondi. È il re tradizionale, è l'imprenditore nell'industria del caffè, delle piantagioni, e poi è anche un uomo politico che magari partecipa all'Assemblea nazionale. È un uomo di mondo che sta dentro quella situazione locale, ma contemporaneamente dentro una realtà globale. Ora, è dentro questo contesto, a quanto complesso, che io conoscevo abbastanza bene, che ho invitato a partecipare a Alterazioni video. Le ho portate con me. Alterazioni video, non so se li conoscete, sono abbastanza noti. Questa forse è la loro operazione, il loro progetto più noto, l'incompiuto siciliano, che sostanzialmente è stata un gesto taumaturgico, un po' alla Duchamp, se volete. Non si trattava di fare di un urinatoio, una fontana, si trattava sostanzialmente di sdoganare, reinterpretare, riportare alla luce una serie di abusi e edilizi nella città di Giarre, fatti per ottenere finanziamenti europei per opere molto fantasiose, che non sono mai arrivate in fondo. Tra cui la famosa piscina olimpionica, a cui manca un metro. Quindi non hai 50 metri, ma ne ha 49. E qui vediamo Alterazioni video, che organizza una seduta di acqua gym in una piscina che è vuota, ma che in realtà non è un non luogo, perché è localmente utilizzata poi come campo di pallacanestro, perché anche questi spazi indeterminati, privi di funzione, vengono poi ricolonizzati. Quello più eclatante è il famoso stadio di polo, con tribune per, non ricordo male, 10.000 posti. Notoriamente il polo è lo sport nazionale della regione siciliana. Allora, però noi ritorniamo in Cameroon, è qui che li ho portati. Allora, per me l'intento qual era? Avere uno sguardo nuovo su cose note. Forse mi annoiavo un po'. Volevo un po' rilanciare, perché quando si arriva tutto in nuovo, e tutto d'esta curiosità, poi entra il meccanismo dell'abitudine, e si ripercorrono sempre gli stessi passi, e quindi diventa difficile procedere. All'inizio è complicato perché non si conosce niente, poi è complicato perché si costruiscono le proprie routine e sembra che non ci sia più niente da conoscere. E quindi questo è un po' il motivo. Perché portare un artista e perché portare proprio questi artisti? Allora, c'è tutta una retorica che circonda l'arte, che noi riceviamo dal romanticismo. L'artista porta uno sguardo di freschezza, la capacità di sconvaginare le carte, la capacità di portare nuova luce sulle cose mostrando aspetti inediti, poco visibili ad altri. L'artista è un anticipatore. Beh, in qualche modo, tutto questo mi ha nutrito, anch'io dentro questa cornice. E però c'è anche qualcosa di più. Se parliamo di rapporti tra arte e antropologia, stiamo troppo sulle generali. Certi antropologi e certi artisti. È vero che ciascuno di noi viene dai propri mondi e questi mondi creano dei contesti che ci vincolano fortemente. Se io vado a fare ricerche, è perché poi devo rispondere all'università. Quindi devo produrre. Se un artista va da qualche parte, poi presumibilmente deve realizzare una mostra. E quindi c'è anche un meccanismo di finanziamenti dentro i quali siamo stretti. E quindi gli incontri tra antropologi ed artisti, per quanto benintenzionati, non sono mai frutto di un accordo libero tra persone. Non è semplicemente un rapporto di amicizia. È un rapporto professionale. E le professioni restano diverse. Quindi laddove è possibile incontrarsi? Beh, dentro questo terreno, nel mondo dell'arte, c'è il fatto che io sia qui e ne ho un po' la dimostrazione. C'è una forte domanda di antropologia oggi. Perché? Perché la formazione classica, tradizionale nella storia dell'arte non basta più davanti a questo mondo. Occorrono altri strumenti interpretativi. Perché? Perché questo è il mondo in cui, dopo la caduta dei muri in particolare, e quindi il bipolarismo che semplificava un po' tra l'est e l'ovest, siamo caduti in una situazione di multipolarismo e di grande frammentazione, dove è venuto in primo piano l'elemento della differenza della diversità culturale. E l'antropologo è proprio forse quello più titolato di altri a parlare di scultura. La nostra disciplina si chiama antropologia culturale. E la cultura di cui parliamo è la cultura in senso antropologico, e cioè una creazione e costruzione collettiva, che si fa sostanzialmente vivendo. Sono gli usi e i costumi, sono le abitudini, non è la cultura dei dotti. E quindi è dentro questo terreno che cresce la possibilità e la desiderabilità di costruire un ponte tra arte ed antropologia, anche con eccessi. Perché come accade per tutto, anche questo poi finisce con l'essere una moda e talvolta io ho l'impressione di essere trattato nel mondo dell'arte come una pianta ornamentale. E cioè nel programma del convegno al tavolo ci vuole l'antropologo. Perché comunque completa il quadro. Allora, questi artisti sono artisti che lavorano nel sociale, sono artisti che non lavorano in galleria, sono artisti che fanno un'arte di tipo relazionale. E l'antropologo fa proprio questo. Qui troviamo un punto di intesa. L'antropologo costruisce relazioni. Il sapere si costruisce montando le relazioni, sviluppando le relazioni. Alla base della cosiddetta etnografia sta l'osservazione partecipante. E cioè io capisco qualcosa di qualcuno sì, osservando. Ma osservare da solo non basta. Quello che conta è il connubio tra osservazione e partecipazione. Non osservare dall'esterno, ma osservare facendo. Osservare cercando di immedesimarsi. di fare come fanno gli altri. Di apprendere a vivere come vivono gli altri. In una certa misura e fin dove è possibile. Allora, tutto questo però vuol dire anche esporsi dei rischi. La loro arte va sotto, potremmo rubricarla, dentro il cosiddetto attivismo artistico. Anche loro si occupano di cultura, ma nelle forme del sabotaggio culturale. E quindi hanno un'azione che è un'azione spesso dirompente. Con effetti volutamente trasgressivi e scandalistici. Allora, per me che faccio l'antropologo e che devo costruire relazioni, portare qualcuno che mi piazza delle bombe a mano qua e là e che mi fa saltare anni di lavoro in tre settimane, ovviamente può essere un problema. Quindi io mi sono assunto volutamente dei rischi. Ma il motivo di interesse per me stava anche nel fatto che portando degli artisti potevo consentirmi tramite loro una libertà d'azione che non avevo in quanto antropologo. Perché, come dire, la gente, le persone con cui hai a che fare rispondono alle tue domande cercando a loro volta di sintonizzarsi, di immaginare chi sei, cosa vuoi, eccetera. E bene o male si sa chi è un antropologo e bene o male si sa anche chi è un artista. Che vuol dire che cosa puoi aspettarti. Quindi ciascuno si comporta sostanzialmente anche cercando di negoziare la visione che gli altri hanno di te tendenzialmente si comporta come gli altri si aspettano. Se io faccio qualcosa di bizzarro che non sta dentro l'immagine dell'antropologo inevitabilmente creo sconquassi. Vengo preso per matto. Ora, l'artista può permettersi cose che io non posso permettersi. Perché anche laddove l'arte contemporanea non è poi così diffusa tutti, bene o male, sanno che cos'è o credono di saperlo. E sanno comunque che l'artista è un tipo bizzarro. e che quello che fa spesso è qualcosa di enigmatico, di difficilmente indecifrabile. Quindi un po' anche questo per me è stato una delle ragioni. Un po' come fanno i bambini più grandi che mandano avanti dagli adulti i fratellini più piccoli. Perché appunto possono permettersi delle cose, anche il ridicolo, che loro non possono consentirsi più. Allora, l'idea, e lo vedete qua, da parte loro era quella di realizzare un film horror, un musical horror con degli attori non protagonisti, non professionisti, presi appunto dalla strada. Un po' se volete, un po' come nel neorealismo. Anche se qui appunto gli stereotipi su cui loro volevano giocare erano stereotipi di tipo liwoodiano. La cosa interessante, qui vedete è un pseudo-poster del film dove ci sono io, ci sono loro, c'è il re di Banjoone e ci sono gli zombie, perché gli zombie stanno dentro il film. La cosa interessante è che questa è sia una fiction, ma non è solo una fiction. Perché? Perché in realtà gli zombie non arrivano solo da Romero, non arrivano solo da Hollywood, ma stanno nella realtà locale di Banjoone. E gli stessi artisti dell'alterazione video lo sapevano perché avevano letto quello che io avevo scritto su questa realtà. Dove? Cioè c'è un elemento forte, molto presente di stregoneria. E quindi anche qui in questa idea, in questo progetto c'è una sorta di contaminazione, di clash fra mondi diversi che sono quello che ci arriva da lontano e quello che troviamo lì e che trovano un punto di tangenza, una zona di contatto. Però non è stato solo questo, né per loro e soprattutto per me quello che contava era arrivare al prodotto finale, il film. Quello che raccontava era condurre un'esperienza insieme sul terreno che eventualmente il video poteva raccontare o raccontare solo in parte. Tra le cose che sono state fatte è stata anche quest'opera, un'opera scultoria che loro hanno realizzato in terracotta, un'armatura di bambù con dei palloni di gomma da calcio dentro il museo di Banjun che è il museo reale che raccoglie gli oggetti sacri, quindi nel cuore della tradizione. Allora, la cosa interessante è che per loro costituiva una sorta anche qui di sberleffo, quindi entrare con qualcosa di dissacrante dentro il tempio della tradizione, ma farlo secondo le tattiche loro consuete del mimetismo, perché si prendono i materiali locali, le tecniche locali, anche le forme piramidali dell'architettura locale e poi ci si buttano dentro i palloni da calcio, che è l'elemento dirompente, che è la bomba umana che colloca questo intervento altrove. Allora, però siccome la gente non è stupida, se accoglie una cosa del genere è perché può in una certa misura incorporarla, approcchiarsene. Il pallone in realtà non è strano a Banjun, il Camero, non meno dell'Italia, è una nazionale fondata sul calcio e nella famosa grande capanna sacra che abbiamo visto prima tra i pali insieme agli antenati ci sono i giocatori di calcio. Tornando due anni dopo sul luogo del delitto, che cosa scopri? Che l'opera non è più attribuita ad alterazioni video, ma a un artista locale. E questa è una foto di scena. La cosa interessante per me qual era? Utilizzare il set e il backstage come uno strumento per costruire campo, cioè creare una situazione da studiare. Il fare un film seleziona le persone, chi risponde agli appelli radiofonici della realtà locale sono dei giovani, tra cui si è diffusa la voce infondata che era arrivata alla Rai. E quindi l'idea era ancora una volta di trovare un trampolino di lancio per arrivare in Occidente e possibilmente diventare delle star. Badate bene che i talent e i contest televisivi che vediamo nella nostra tv si fanno anche in Cameroon. E quindi anche da questo punto di vista le distanze sono meno profonde di quel che pensiamo. Il bello di questo lavoro è stato proprio questo, di lavorare sui media. Quindi di lavorare sul processo di costruzione filmico e quindi di vedere che cosa della realtà locale di quel paese si poteva portare dentro il film. Allora vi faccio vedere, devo interrompere la presentazione, quello che era il trailer di questo film. Vi dà un po' l'idea dello spirito della cosa. film di tarzare di un'epoca A thriller journey A shocking documentary A horror musical A blood fest A daring adventure From the authors of Artist Serial Killer The land of vampires and zombies Fire for survival A death anthropologist Explodes the darkest heart of Africa Following a chain of horrifying deaths In a village Roofed by a powerful king With hundreds of wires A vicious rockman And a powerful wizard And a powerful wizard In a deep horror musical experience The new terrifying film by Alterazioni Video All of this and even more Only at all my friends are dead Allora Allora non so qual è L'impressione che ne avete avuto voi Ritmo travolgente Ritmo travolgente Uno dei problemi secondo me Almeno dal poterista e antropologo In una cosa come questa In cui ho collaborato Anche se la mia collaborazione Non è stata pienamente riconosciuta Perché fa parte della loro poetica Il furto Una delle questioni È capire che cosa c'è di realtà E che cosa c'è di finzione In tutto quello che vediamo Perché realtà e finzione Sono montate insieme Senza soluzione di continuità E non è agevole Se qualcuno si pone il problema Ovviamente Capire che cosa c'è di documentaristico E che cosa c'è di fiction Allora È chiaro che l'obiettivo dell'antropologo È cercare di capire qualcosa di più Della realtà Non è fare fiction L'antropologo Non è un romanziere È però anche vero Che anche nella tradizione Del documentario Del documentario etnografico La rappresentazione della realtà Richiede una certa dose di finzione Non è possibile riversare la realtà Nella sua realtà In una pellicola O appunto In un video digitale Bisogna passare dentro il media Bisogna quindi selezionare E rimontare il lavoro di montaggio La realtà Anche il documentario Anche il documentario Richiede finzione Una messa in scena E d'altra parte Tante fiction Possono farci capire molto Delle realtà Più di tanti documentari E quindi Da questo punto di vista La distinzione Tra la dimensione artistica E quella etnografica Antropologica Non è così netta E così chiara È da negoziare Ma forse Il punto di discrimine Sta nel fatto che L'antropologo Fa ricorso Alla finzione Per capire qualcosa Di più della realtà Talvolta Questo è anche il percorso Degli artisti In altre occasioni Avviene il contrario E cioè che Si prende E si saccheggia Dalla realtà Per creare Delle fiction Che magari Come dire Esprimono Quello che è il mondo interiore Dell'artista Ma di fatto Stravolgono Quello delle persone Che compaiono Nell'opera Quindi Questo è un primo elemento Secondo me Molto forte Che differenzia L'artista Dall'antropologo L'antropologo Ha un dovere deontologico Che è quello di Restare legato Alla rappresentazione Del punto di vista locale È un nodo Un vincolo Di tipo metodologico È anche etico L'artista Da questo punto di vista E soprattutto Un certo tipo di artisti Sono molto più liberi Quindi Prendono dalla realtà Ma quello che è il prodotto finale È la loro opera Appunto E quindi Da qui Anche i punti Di frizione Che stanno dentro Queste collaborazioni La cosa Molto interessante È stata Quando parliamo Di comunità La comunità Non è con Cioè la collaborazione Non è con tutta la comunità Di Banjou Ma con i ragazzi Attori Musicisti Danzatori E danzatrici E altre figure D'appoggio Che hanno collaborato Alla costruzione Del film Ogni ripresa Ogni seduta di ripresa Era anticipata E seguita da discussioni Con fiumi di birra Intorno a cui Si creavano Ipotetiche Sceneggiature Allora Per me come antropologo L'argomento Che era argomento del film Era quello della stregoneria Parlare di stregoneria Non è semplice La gente non è disposta A parlarne Parlarne Sotto copertura Diciamo così E quindi Sotto lo schermo Protettivo Della finzione Come può essere Quello del film Consente di dire cose Che non si direbbero Altrimenti E quindi Da questo punto di vista Si crea Proprio perché Si ha L'impressione Fondato In fondata Di creare qualcosa Insieme In maniera collaborativa Tutti Che è il film Si crea quel rapporto Di fiducia Dove certe cose Sotto la forma Dell'aneddoto Sotto la forma Della possibile Sceneggiatura Possono essere dette Si parlava prima Del rapporto La realtà finzione Ma se parliamo Di stregoneria I confini Tra realtà e finzione Sono ancora più flebili Quello della stregoneria È un mondo di credenze Quello degli zombie Del cannibalismo Dei vampiri Credenze Che sono date Per vere Ma di fatto La stregoneria Si avverte Si vede solo Per i suoi effetti La malattia La morte La sterilità L'AIDS E non nell'azione Che è un'azione notturna Ed invisibile E poi anche perché L'immaginario Della stregoneria Si costruisce al cinema Anche in Africa Non solo con i film di Hollywood Ma anche con i film di Nollywood Cioè la cinematografia nigeriana Diffusa in Africa E nella diaspora africana Dove appunto l'elemento Della stregoneria È molto presente E forte Allora tra le azioni Che sono state fatte Anche questa Un'azione a sorpresa Nel centro di Banjun Una processione di zombie Accompagnata Da videocamere Che riprendevano il tutto Allora questo Questione che si pone L'antropologo Come viene percepito localmente? E cioè Si ha l'impressione Che ci sia una fiction Perché appunto Si vedono le videocamere Oppure L'impressione è quella Che ci sia una processione Di una qualche setta Che viene appunto Ripresa documentaristicamente Come fanno gli occidentali Che vanno a filmare Le scene Le feste tradizionali Allora Un po' di tutto questo Un po' di tutto questo Gli attori Gioveni attori Che lavoravano con noi Erano stati accusati Di far parte di una setta Che noi avevamo portato Allora Però anche qui Immagine che abbiamo visto prima Interessante Sembra Carnevale La maschera di Scream Maschere di gomma Made in China È fiction o realtà? Allora È realtà Una realtà Che si costruisce Attraverso L'incorporazione Di elementi Finzionali Questa è la danza Dei guerrieri Una volta Avevano le maschere in legno Che troviamo nei musei Ora Avete il Signore degli Anelli Avete Guerre Stellari Avete i Kiss Ma Non è qualcosa Buttato lì a caso C'è un processo Di selezione Degli elementi culturali Che arrivano dall'esterno Perché? Perché tutte queste maschere Fanno paura E quindi servono a rendere Ciò che è Lo spirito tradizionale Del guerriero Che deve incutere terrore E quando parliamo di arte contemporanea Non pensiamo di essere soli Questo è un altro artista camerunese Originario di Ban Giun Che come vedete Nel fare arte contemporanea Monta Le maschere elefanti locali Con le stesse maschere Che abbiamo visto prima E quindi anche qui possiamo E dobbiamo chiederci Dove avviene questa operazione? A quale livello? Avviene dentro i flussi culturali globali? O avviene dentro la dimensione circoscretta della località? In realtà avviene nel punto di giunzione Di connessione Tra dinamiche locali E flussi culturali globali E se parliamo di documentario Beh, dobbiamo anche renderci conto Che ci sono documentaristi locali Come Jean-Marie Tenot Che ha una fama internazionale E che ha lavorato sullo stesso terreno E sugli stessi temi E lì a Ban Giun In questo villaggio di 30.000 abitanti Ci sta anche un artista Che è di grande fama internazionale Che è esposto in tutte le biennari del mondo Che è Bartolomito Goh Che è originario di lì E che lì ha costruito un grande centro Per l'arte contemporanea Che dista due chilometri Dalla grande capanna in paglia e legno Che avete visto prima Che si mette a coltivare il caffè E costruisce casette d'artista Come se fosse un contadino Ma tutto questo ovviamente È un progetto artistico Per cui il caffè e le arachidi Vengono poi esposte Dentro il suo centro espositivo A pochi metri di distanza Dalle arachidi messe A seccare al sole dei contadini Che stanno fuori E quindi anche qui vedete che Ci sono distanze Che sono distanze Concettuali di modi di vita E di mondi di vita Che però spesso Sono spazialmente Dimitrofi prossimi Adiacenti Lasciamo alterazioni video E vediamo il secondo degli artisti Che vi preannunciavo Quindi Paola anziché E questo video Realizzato in occasione di Expo Milano 2015 Su commissione Della fondazione Gian Giacomo Feltrinelli Dentro la quale io ho lavorato Nel laboratorio Expo Che era un po' La costola scientifica Del progetto di Expo Quindi siamo partiti in Cameron Con un lavoro Che era un lavoro commissionato Ma che in qualche modo Abbiamo piegato le nostre esigenze E cioè io sono La prima commissione Era quella di realizzare sostanzialmente Con un videomaker Dei filmati d'appoggio Ad un convegno Da farsi là L'idea mia è No, a questo punto Coinvolgo un artista Ampliamo E facciamo un lavoro Di ampio respiro Che abbia una sua validità Autonoma E non solo Un video di servizio Allora Nel parlare Lo dicevo prima all'inizio Delle collaborazioni Tra artisti e antropologi Bisogna tener conto Di quelli che sono I contesti istituzionali E i vincoli organizzativi Che nel caso di una manifestazione Come Expo Sono particolarmente forti E quindi su questo Vorrei dire Spendere due parole Vincoli organizzativi Che sono legati Alla macchina Di un grande evento E che vuol dire Creare Situazioni di grande visibilità Che possano stare Sulla scena mondiale Perché questa è Un'esposizione universale E dentro I tempi Estremamente Stretti Che sono quelli Appunto dell'evento Che va Infatti Infatti Tutto questo Vuol dire Artista antropologo Lavorare Ad un lavoro Che vuole essere anche qui Un lavoro Che crea Un'opera d'arte E un documento Antropologico Che non sono scissi Ma che stanno dentro Lo stesso prodotto Che è il video Ma che possono essere Spesi Giocati Nei due mondi Recepiti In un festival Del cinema etnografico O dentro Una mostra d'arte E però nel contempo Produrre qualcosa Che possa stare Dentro Expo E quindi Che possa essere In qualche modo Sezionato In clip Che possa viaggiare Su più piattaforme Che quindi Sia anche Comprensibile Ed accessibile Ad un largo Ampio pubblico Allora Tenere tutto questo Insieme Ovviamente Non è cosa facile E anche qui Si generano Delle situazioni Che sono di attrito Ma Si vince E tutti vincono Se si arriva in fondo E quindi Se si trovano In punti di compromesso In cui tutti Possono essere Soddisfatti E Questo Credo Che in una certa misura Sia Questo risultato Sia stato Raggiunto Allora Paolo anziché Anche qui Un artista Che non ho scelto A caso Si trattava di realizzare Un video Ma io non volevo Un videomaker E neanche Un videoartista Volevo un artista Che facesse uso di video Che è una cosa diversa E quindi Un artista Che come nel caso Di Paolo Anziché Fosse Impegnata Nel lavoro Sulla corporeità E sulla materialità Lei lavora molto Con tessuti Creando spesso Appunto Situazioni Attraverso l'uso Dei tessuti Utilizzando Delle Questa è una iurta Delle sculture Che diventano Sculture abitabili Che diventano Abitazioni E che vengono giocate Non come oggetti Autonomi Ma per costruire appunto Relazioni Per Attivare Le Persone E Lei aveva lavorato Anche sul cibo Che era l'oggetto Di Expo E l'oggetto Del documentario Come In quest'opera In cui creava Degli indumenti Con delle tasche Nelle diverse parti Del corpo Invitando Delle persone A mettere Del cibo Della frutta Che stava A stretto contatto Del corpo E che quindi veniva scaldata Dal corpo E che poi Veniva Donata Ad altri Quindi creando Una sorta di comunicazione Che stava nel dono Ma che stava anche In questo passaggio Molto sensoriale Molto Tattile Di oggetti Che erano stati Scaldati In tutti i sensi Dal corpo di qualcun altro Allora tutto questo Perché per me era prezioso Perché poteva servire A creare Un'immagine Che non fosse bidimensionale Ma che avesse Uno spessore Corporeo Quindi Una persona che utilizza E un'artista Che utilizza Il video Dentro Situazioni Anche qui In una prospettiva Di tipo relazionale Quello che conta Non è il prodotto finito Quello che conta È come l'artista Con la videocamera Si posiziona E si muove Dentro il campo Perché i suoi movimenti Il suo modo di fare Possono creare O distruggere Situazioni propizie Allora quindi Su questo Abbiamo lavorato Alcune cose Inizialmente Mi disorientavano Un'artista che Gioca molto sui dettagli Evitando Campi larghi E per me Questo Inizialmente Anche perché non vedevo Subito L'esito Di questo lavoro È stato qualcosa Di temuto Perché l'antropologo Ha bisogno di contesto E quindi Se fa vedere qualcosa Bisogna inserirlo Dentro uno scenario Che è quello che gli sta intorno Che gli dà significato Se io taglio Un singolo oggetto Un singolo volto O un particolare De contestualizzo E quindi Perdo una gran quantità Di informazioni Che per l'antropologo Sono preziose Il rischio Che temevo Era quello Di belle immagini Ma niente Camerun In realtà In realtà Fortunatamente Mi sbagliavo Anche perché come sempre Le collaborazioni Si sviluppano in progress E laddove c'è disponibilità Si raggiungono delle intese E quindi ho capito Come potevano essere giocate Queste cose E la cosa funziona Se l'artista Si avvale dell'antropologo Per fare un'opera d'arte migliore E l'antropologo Riesce Ad avvalirsi dell'artista Per fare Un'antropologia migliore Ovviamente Tutto questo È una scommessa Quello che Alla fine Per me ha funzionato In questo giocare sui dettagli Che non sono comunque esclusivi Ci sono anche ambienti È stato questo Frenare Ostacolare Quella che è un po' La nostra Volontà di verità Come diceva Nietzsche Che è poi Volontà di potenza Che è quella di Tutto vedere E tutto avere E quindi di Avere il camera in un film Troppo comodo Insistere sul dettaglio Il tagliare Il riprendere le persone di schiena Frena questa volontà Crea un elemento Di disagio Crea una situazione Di difficoltà L'impossibilità Di comprendere tutto E ci rende Maggiormente consapevoli Del fatto Che quello che È il significato Non è qualcosa Di dato Che basta filmare Per riportare Da qualche parte Ma è qualcosa Che occorre Costruire Costruire nelle relazioni Sul campo E costruire dentro Il film E quindi qualcosa Che si dà Sempre Parzialmente Alcune di queste situazioni Peraltro Richiedevano Di porre dei limiti Alla possibilità Di filmare Perché le persone Quando mangiano In Cameron Come altrove Creano degli spazi Di intimità Anche laddove Sono in un contesto Pubblico Difficilmente Le persone Amano essere riprese Quando mangiano E quindi Questo vale anche qui In molte situazioni In cui soprattutto Si teme L'uso Che si farà dell'immagine Perché le immagini Poi viaggiano Come non mai oggi Vengono messi su internet E in Africa Da questo punto di vista C'è un certo Timore dell'uso Che si può fare Delle immagini Soprattutto laddove Servono A rinforzare Quelli che sono Gli stereotipi Miserabilisti Dell'Africa Quando noi In un ambiente urbano Andiamo a filmare Degli impiegati O dei quadri Che fanno la pausa pranzo In un ambiente Che peraltro È molto Molto modesto Quello che noi Definiremmo Una baracca Costoro Hanno paura Di venirsi sminuiti Nel loro stato sociale E di essere messi Sulla famosa Gogna mediatica Come amano dire I nostri politici Quando Ricevono un avviso Di garanzia E quindi Come dire Anche qui Il tagliare Significa anche Non solo fare Di necessità Virtù Ma anche Cercare di stabilire Una sintonia Creando Una zona di rispetto Laddove Le persone Appaiono in volto È perché Si è costruito Un clima di fiducia Magari Perché erano persone Che io conoscevo da anni O perché questo Si è costruito Nello spazio di una giornata Spesso con Effetti sorprendenti Questa è una signora Che cucina il pesce Al mercato Con cui Il primo a essere sorpreso Sono stato io Questa persona Su una scena Che era una scena pubblica È arrivata a fare Delle confessioni Estremamente intime Sulla sua vita privata A me Che vedeva Per la prima volta Ora Questa immagine Dice tante cose Cioè che si era creato Un clima di complicità No? Una forma di Intimità Ora Sembriamo quasi Due innamorati Ma niente di tutto questo E quello che è interessante È che questo è ripreso Dalla camera Che vuol dire Che la camera Non è avvertita Come un elemento estraneo E la stessa presenza Dell'artista Contribuisce in realtà A creare questa sorta Di triangolo No? Dentro il quale Certe cose Anche qui Come si parlava prima A proposito della stregoneria Possono essere dette Ora vi faccio anche qui Vedere un breve Clip del film Tutti gli anni Nella città di Chang Gli abitanti originari di Banjoon Un'altra località Bamileke Promuovono la giornata Della ragazza Banjoon Otojong Una giornata culturale Nel corso della quale Le ragazze dell'Università di Chang Sono accolte Nelle diverse famiglie Banjoon E sotto la guida esperta Di una Maman Apprendono a cucinare Secondo la tradizione In queste forme di socialità Tanto spontanea Quanto organizzata Il nuovo grande museo Delle culture di Chang È in prima fila Il suo compito Non è solo Raccogliere la tradizione Fra le proprie mura Ma alimentare La realtà Che sta al di fuori Quanto che ci sono Scusi, ora che si prende lo sposto non vuole l'aereo. E questo si mangia con il come? Si, si mangia con la salsa fatta, la base dell'olio rosso. Tarot, tarot, ici. Tarot, 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 tarot. Bata, tarot. Grazie a tutti. 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 doppio non parliamo solo dell'arte africana parliamo anche del collezionismo italiano non parliamo solo dell'africa ma dell'italia questo è il binomio questa è la relazione su cui abbiamo lavorato per cui se gli oggetti vanno in mostra queste due grandi sede espositive castello d'alberti sede il museo delle culture di genova palazzo ducale a queste grandi sale che erano poi i magazzini depositi delle derrate alimentari del palazzo all'epoca abbiamo lavorato non solo sugli oggetti e quindi non abbiamo semplicemente portato in mostra con l'allestimento anche qui pensato ma dentro un team curatoriale per cui non c'è divisione del lavoro ognuno mette insieme le proprie competenze si fa brainstorming un allestimento comunque ideato da stefano a rienti sulla base di esigenze che avevano posto gli antropologi anche qui superare l'occhio perché superare l'occhio perché l'arte africana delle forti componenti tattile che già picasso aveva valorizzato ma che sono le componenti tattili che sono la base del collezionismo il collezionista arte africana non si imita a guardare gli oggetti nella vetrinetta li prende in mano li manipola gli odora anche qui c'è una multisensorialità che va bene al di là dell'occhio ma come sappiamo in mostra gli oggetti non si possono toccare che cosa accade che abbiamo ridotto comunque al minimo gli ostacoli le vetrine si creano delle pedane con delle lati sporgenti obliqui che ti tengono lontano quindi ad una distanza tale che se allunghi la mano non non arrivi all'oggetto ma che crea una situazione che in tutto e per tutto incoraggia questa accessibilità incoraggia andare a cercare anche se poi se li vai a cercare suona l'allarme però anche qui l'idea è proprio questa ma come prima nel video con paolo anziché di creare un occhio che non sia disincarnato ma che sia un occhio che porti con sé il corpo con tutte le sue pulsioni e l'idea era portare non solo gli oggetti in mostra ma anche i collezionisti e la loro vita e parlare di collezionismo vuol dire che cosa che se dobbiamo meravigliarci dobbiamo meravigliarci del fatto che gli oggetti stanno qua in italia e non in africa e che il loro contesto visto che gli antropologi parlano e lavorano sempre sui contesti non è l'africa sono le case degli italiani e quindi antropologicamente render conto di questo da dove vengono gli oggetti dove andranno quando la mostra chiude e quindi con stefano con la mia collega giovanna parodi da passano abbiamo realizzato delle interviste dentro le dimore degli collezionisti per vedere qual è il loro rapporto con gli oggetti per vedere qual è la dimora abituale degli oggetti che non è l'africa quindi nessuna macchina del tempo nessuna possibilità di fare il salto da palazzo ducale all'africa occorre passare per ricostruire per tracce il rapporto che c'è tra quegli oggetti e l'africa da un percorso che sono percorsi biografici che sono i cammini attraverso cui gli oggetti sono arrivati qua e quindi ancoraggio no freno al desiderio di esotismo come prima le inquadrature che impedivano di ricostruire contesti ampli freno al desiderio di esotismo ti inchiodiamo qua in italia perché prima bisogna capire qual è il rapporto tra noi e l'africa passando dall'italia gli oggetti non solo le persone viaggiano questo che cos'è è una scala burkina faso serve ad accedere alla terrazza alla forma di un albero è una scala pioli dentro quel contesto d'uso si sa bene che cos'è ma se arriva a 1984 la mostra sul primitivismo del moma e viene messa a fianco della cariatite di brancusi diventa un'altra cosa ancora non è più una scala perché non lo è perché nessuno ci si arrampica più perché diventa un oggetto di contemplazione privato d'uso diventa un'opera d'arte perché crea una nuova relazione si è creato un incontro che ha attivato un altro livello dell'oggetto una nuova possibilità di esperienza che è un tradimento se volete ma perché perché gli oggetti hanno una loro biografia come le persone cambiano a seconda degli incontri che fanno nella vita e quindi queste scale poi finiscono su a di finiscono nei salotti parigini che sono ben diversi dalle case dei burkina faso e poi finiscono questo era stato portato in mostra nel calendario di max con la modella megan gay e quindi diventano qualcosa ancora non una scala non un'opera d'arte qualcosa che sta a metà tra l'oggetto di design e il gadget da sexy shop c'è stato non necessariamente in maniera illegale e neanche come dire con effetti necessariamente nocivi un processo di spogliazione dell'africa del proprio patrimonio culturale anche benintenzionato perché in effetti molti dei collezionisti anche a ragione dicono che se questi oggetti fossero rimasti in africa probabilmente sarebbero scomparsi perché non c'è una cultura della conversa conservazione perché sarebbero stati bruciati dai missionari delle chiese pentecostali eccetera e quindi il collezionista si vede come una sorta di padre putativo che preserva gli oggetti per le future generazioni degli africani e anche per l'umanità nel suo insieme quindi ne fa degli oggetti che non sono più soli semplicemente africani ma che fanno parte del patrimonio universale dell'umanità che ci riconduce dentro a quella cornice che già avevamo trovato in cameron dei processi di patrimonializzazione della cultura quando dicevo all'inizio l'incontro tra l'arte e l'antropologia muove dal fatto che la cultura sta sempre più al centro la cultura in senso antropologico invece anche questo oggi siamo in situazioni in cui appunto si affame di diversità culturale anche perché la cultura è diventata merce quindi nel campo dell'arte ovviamente questo vuol dire l'apertura di un grande mercato globale dell'arte con nuovi artisti in nuovi mercati vuol dire il rifacimento di tutti i musei etnografici secondo nuovi criteri per cui i musei etnografici riaprono come musei delle culture vuol dire anche processi di estetizzazione della cultura per cui la cultura in particolare laddove arte anche se magari condita di retoriche sociali diventa un oggetto liberamente consumabile perché non impegna perché come dire è sradicato da contesti sociali e concreti che richiedono l'agire quindi è un consumo di diversità culturale fatto in piena libertà presidente della cultura del malì qualche anno fa diceva quando è stato aperto il museo del crebano crebano lì di parigi museo delle culture che era molto contento del fatto che gli oggetti africani avessero questa grande visibilità e possibilità di movimento che era esattamente quella che veniva legata negata agli africani e a me è capitato di trovare collezionisti d'arte africana con maschere appese in salotto e che avrebbero sparato volentieri sugli immigrati a Lampedusa quindi c'è anche questo processo di dissociazione per cui abbiamo due pesi di misure e il nostro guardare all'africa va su diversi binari in mostra e entrano vedete gli oggetti che costruiscono rapporti di parentela diversi no la stuina africana che lì con le foto dei figli che vuol dire che è diventato oggetto di affezione che vuol dire che è diventato parte della famiglia che vuol dire che il rapporto che si ha con gli oggetti è di quel tipo feticistico e animistico che noi attribuiamo agli africani e quindi c'è tutto questo che entrava nella mostra una delle operazioni deriente è stata a castello d'albertis di disseminare una decina di intrusi dentro le collezioni del museo cioè degli oggetti di africani messi dentro le vetrine ad esempio dell'arte precolombiana mesoamericana che è un modo come dire di scardinare quelle che sono le collezioni quindi le strutture categoriali molto rigide del museo che in quel caso è anche casa di viaggiatore questo d'albertis che appunto aveva raccolto quelle collezioni che aveva costruito questa grande dimora come una sorta di mausomoleo celebrativo e quindi c'è anche lo smontare questa oleografia questa racconto di tipo auto celebrativo che era stato fatto appunto dal d'albertis qui siamo a palazzo ducale sono le famosi tra virgolette fetici l'idea di smontare lo stereotipo arienti che cosa fa prende dei cuscini di piume d'oca e disseminano piume d'oca in mezzo a questi fetici qual è il senso di questa cosa questi fetici hanno un uso sacrificale e cioè in genere sono cosparsi di sangue che è quello dei polli con finalità terapeutiche allora quella non è immediatamente avvertibile guardando la vetrina e lì la vetrina ci sta non per proteggere i fetici ma per proteggersi dai fetici quello che avverte il visitatore è il fatto che venga messo insieme un oggetto estraneo il feticio ed uno molto vicino le piume dei cuscini su cui noi poggiamo la testa la sera su cui ci addormentiamo un elemento domestico che fa parte della nostra intimità è uno dei modi di tradurre questa esperienza lontana che si vede nel video che sta nella stessa sala e che può suscitare orrore e raccapriccio per farcela sentire più vicina e cioè creare un ponte che è un ponte sensoriale con sensazioni che ben conosciamo il cuscino il cuscino soffice su cui poggiamo la testa per avvicinare situazioni e pratiche che ci sono estranee e che ci tengono a distanza ora questo non vuol dire che ovviamente si tratti della stessa cosa no sono due esperienze due cose diverse significa però creare un clima che contribuisce a creare una disponibilità quindi a porre le condizioni di una comprensione che è meno esterna e più vicina gli oggetti arrivano in mostra e come accade a lampedusa sono accolti con i guanti bianchi i guanti di gomma che si usano negli ospedali e hanno degli esami che sono gli esami medici richiesti dalle pollizze assicurative e sono accompagnati da documentazioni che sono permessi che sono visti esattamente come le persone ricordate che prima si faceva questo rapporto tra la biografia degli oggetti e la biografia delle persone le relazioni fra le persone quelle fra l'italia e l'africa sono mediate dagli oggetti che sono le sculture africane o che sono il petrolio che va a tra releni e quindi anche da interessi che sono interessi di tipo economico questa è una tavola un'installazione creata da rienti con oggetti cataloghi video con le interviste ed oggetti che vengono dalle case del collezionista ora uno guarda l'oggetto come se fosse nel white cube sulla per sulla pedana bianca di prima e contemporaneamente se si gira lo ritrova in un altro contesto che è quello domestico da cui viene anche qui c'è un ponte lo puoi vedere liberamente però lo vedi con qualcos'altro che ti sta a fianco e le persone si siedono e guardano questi video e trovano questi oggetti apparentemente immediatamente decifrabili che sono cataloghi e i cataloghi sono qualcosa un oggetto di consultazione voglio sapere qualcosa più dell'oggetto vado a cercarmi che cos'è il significato e così via ma questo catalogo ha una particolarità questo fra altri che è stato trappanato da rienti per cui vedete quei due fori sono proprio due buchi che dalla copertina dalla prima di copertina arrivano la quarta portando via dei pezzi di testo o dei pezzi di immagine quel catalogo non è solo un'opera di consultazione che parla dell'africa è un'opera d'arrienti diventa un'opera d'arte mai lì abbandonato non immediatamente riconoscibile come opera d'artista perché è inserito dentro il contesto espositivo dentro la macchina espositiva perché si rivela un elemento funzionale e non solo un'opera seguo un elemento funzionale alla mostra nel suo insieme in cosa consiste questa funzionalità nel farci capire come l'identità che attribuiamo agli oggetti che guardiamo non derivi semplicemente dall'occhio ma derivi da tutto un corredo documentario che gli sta intorno che sono innanzitutto i cataloghi noi impariamo che cos'è l'arte africana vedendola nei libri e solo poi incontrandola in persona e sono i cataloghi come accade in altri campi dell'arte che fanno la storia degli oggetti delle collezioni non solo in occidente ma in africa ritorniamo per un attimo in camera una banjou questa è un artista che fa questo tipo di maschere che appartengono alla tradizione locale ma le che le fa riproducendole non a partire da modelli locali a partire da fotocopie di cataloghi di mostre fatte in europa perché questo è ciò che si deve fare vi vede questo processo di mediazione che corre lungo tutto la superficie del globo ancora cataloghi trapanati da rienti che così facendo ci rende consapevoli del fatto che non solo l'oggetto può diventare un'opera d'arte ma che il libro è un oggetto e cioè che ha una materialità non meno del film di prima che prendeva dall'africa ciò che ci stava dentro nel film selezione delle immagini montaggio eccetera vincoli istituzionali di expo lo stesso vale qua che cosa dell'africa riesce a entrare nelle pagine di un libro che cosa dell'esperienza di un antropologo che è fatta di tante cose che è fatta di partecipazione può essere tradotto in parole quindi capire che l'oggetto il libro non è esterno all'opera all'oggetto ma ne costituisce una sorta di protesi l'elemento di una sua esistenza distribuita un oggetto è tanto più importante quanto più volte riprodotto nelle pagine di un libro allora chiudo con questa che è l'immagine di un artista con cui non ho collaborato che è Fred Wilson un artista americano un'immagine del padiglione americano della Biennale di Venezia nel 2002 artista afroamericano quest'opera safe home una specie di jarra che è un bozzolo un uovo un ambiente domestico confortevole c'è la tazza di tè c'è il piccolo televisore al plasma la lampada da tavolo libri di viaggio e c'è anche il mio libro d'arte africana di cui si parlava all'inizio quindi è un artista che capta fa suo un libro che l'opera dell'antropologo ne fa un elemento nella costruzione di un'opera d'arte che è la sua quindi c'è un gioco di continue prese espropriazioni e riappropriazioni perché il mio libro sta lì non perché lui l'ha letto probabilmente tra l'altro nell'edizione italiana o che lo consideri interessante sta lì proprio come oggetto sta lì come uno degli ingredienti non diversamente da una guida turistica con cui noi cerchiamo di rendere la diversità e la complessità del mondo che ci sfugge da tutti i lati qualcosa di padroneggiabile che cosa di più rassicurante dell'idea di poter racchiudere un continente una storia mille storie in un piccolo parallelepipedo magari tascabile e quindi qui con la modalità del lavoro artistico c'è senza l'uso delle parole una critica del lavoro dell'antropologo con questa sua pretesa di dirci chi sono gli altri. Grazie.